Va bene, questo era solo uno scherzetto iniziale, invece la comicità inizia davvero adesso, sono una coppia, nascono a Catania. Eh, 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 eh. Come funziona? Come funziona? Allora, la c... Ti stivo, sono un granio, io ho fatto il DJ. Ah, dove? Alla discoteca Rapolo. Rapolo? C'era anche a pelle? Chi? Le dico, a pelle, il figlio di Apollo. Buono, non conosco il proprietario, fratello. Che proprietario? È una filastrocca. A pelle, figlio di Apollo, fece una palla di pelle di... Vedi? Ah, sei andato a sciare, fratello. Ma sei un grande, anch'io faccio snowballs. Sono cintura nella di snowballs, fratello. È una filastrocca, la conoscono tutti. A pelle, figlio di Apollo, fece una palla di pelle di Apollo. Tutti i pesci vennero a galla... No! Per l'inquinamento, disastro, sono molti pesci! Disastro, per tutto l'inquinamento, voi, i pesci... Ma spiace anche a me, ma non è questo, ma tirati su. Ma i pesciolini, disastro, tutti i modi. Tirati su! Allora. È una filastrocca. Tutti i pesci vennero a galla per mangiare la palla di pelle di Apollo, fatta da Pelle, figlio di Apollo. Ne ha preso di solo in montagna, sto qua, fratello. Ma non sono andato? Comunque, mettevo i dischi per una festa di compleanno alla Apollo. A un certo punto mi punto a una tipa spettacolo. Che spettacolo? Spettacolo, ha capelli neri, pelle nera, labbra carnose, mulatta. Boh, non mi ha detto il nome, fratello. Allora, per fare il figo, mentre mixavo, ho messo subito quel pezzo che spuacca. Quello che fa... Non sento. Ho usato anche il filtri del mix. Ho usato anche il filtri del mix. è fuori girava, continuava a girare no funziona, funziona che stile, guarda spacca quei filtri no spacca sta musica ma musica un po' più alta non l'ascolti per esempio i Beatles no prevesco le Pringles no 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 ma tu conosci non so la nonna di Beethoven la nonna di Beethoven conosco neanche la sorella io esce con le vecchie sto qua ma non io esco ma fesco con la nonna neanche con la sesta scusa un attimo con la quarta che è? ti stimo ma non si accende siamo qui ma chi è sto qua è tutto il giorno che mi rompe sto tipo non lo conosco neanche chi è? Tim ah Tim in forma ah Tim in forma l'istruttore della palestra non in forma no in forma tutto attaccato in forma attaccato si è quello che si attacca sta bravo aspetta che gli scrivo ciao Tim in forma ti stimo ho cambiato palestra staccati addio staccati ciao ciao allora comunque mentre mixavo alla fine alla fine della serata fratello arriva la festeggiata e ha spento tutte le candeline quanti anni faceva? 52 ammazza che tardona no no è arrivata puntuale e siamo noi 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 grazie 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 a tutti.